Musica Eccoci con ora a Tg che apriamo con la cronaca perché nell'interrogatorio di garanzia si avvalso della facoltà di non rispondere Luciano Valvo, il 55enne fermato per concorso in uno dei due omicidi compiuti da Salvatore Turi Lamotta, autore dei femminicidi di sabato scorso a riposto, l'uomo si è poi suicidato. L'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo questa mattina nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, qui si avvalso della facoltà di non rispondere Luciano Valvo, il 55enne che lo scorso sabato mattina ha accompagnato a bordo della sua auto. Salvatore Turi Lamotta è il pregiudicato che due giorni fa ha ucciso due donne e si è poi suicidato davanti alla stazione dei carabinieri di riposto. La Volkswagen nera di Valvo è stata ripresa dalle telecamere puntate sul lungomare Pantano. L'auto con cui l'assassino è arrivato nei frame acquisiti dagli investigatori. Valvo stamani si è limitato a ribadire, assistito dal suo legale Enzo Iofrida, alla sua innocenza. Alcune dichiarazioni spontanee come conferma proprio l'avvocato Iofrida. Questa mattina abbiamo fatto l'interrogatorio di convalida del fermo alle 9.45, lo stesso si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, ma ha fatto delle spontanee dichiarazioni e ha dichiarato di aver dato soltanto un passaggio alla motta e ha dichiarato successivamente di essere assolutamente innocente del circa l'omicidio che gli viene contestato. La difesa si è opposta alla convalida del fermo perché ritengo che non vi siano i presupposti e per quanto riguarda il merito ritengo che non vi siano gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti e al più si potrebbe eventualmente discutere del reato di favoreggiamento. Quindi avendo fatto questa richiesta in subordine ho chiesto o la remissione in libertà o la misura più gradata degli arresti domiciliari che potrebbe essere sufficiente a contenere rischi di reiterazione dei reati anche in considerazione del fatto che lo stesso è un soggetto assolutamente incensurato e non vi è assolutamente prova che lo stesso si stesse dando alla fuga. Non è vero che Valvo abbia accompagnato la motta a casa dopo il delitto, aggiunge Iofrida, come si può rilevare dall'analisi del GPS della sua auto e che non stava scappando perché quando è stato arrestato era a casa. Il legale ha precisato inoltre che il suo assistito non ha neppure il cellulare con cui comunicare che questo va a suo favore per eventuali appuntamenti telefonici che non poteva assolutamente prendere. Lui dal secondo omicidio non aveva la più palle di idea perché nel momento in cui è stato raggiunto dai carabinieri a casa sua lo stesso è stato portato in caserma a Giarre e non aveva idea né del successivo omicidio tant'è che devo dire correttamente non gli è stato contestato né del successivo suicidio da parte dell'autore dei delitti precedenti. Che tipo di collegamento aveva con l'omicida? Si conoscevano. Non c'era rapporto di amicizia stabile? Questo non lo so. Proseguono dunque le indagini degli inquirenti. Non si esclude la pista passionale che potrebbe avere dunque alimentato la furia omicida di Turi, la motta. Sussistono ancora molti dubbi sul movente che ha armato la mano omicida di Turi, la motta, che sabato mattina ha riposto. Ha ucciso due donne prima di togliersi la vita davanti ai carabinieri. Un doppio omicidio e suicidio che ha suscitato tanto scalpore. Un piano diabolico quello messo in atto con lucida follia dall'ergastolano che si trovava nella cittadina ionica in permesso premio. Gli inquirenti stanno valutando attentamente tabulati telefonici e messaggi sui social network. Nell'attentativo di risalire all'esatto movente del grave fatto di sangue. Pare che la motta avesse o avesse avuto una relazione con Carmelina Marino, di 48 anni. Uccisa mentre era a bordo della sua auto, sulla lungomare Pantano. La donna, madre di due figli, è stata uccisa a bruciapelo, mentre era ancora al posto di guida. La seconda vittima, Santa Castorina, di 50 anni, invece, è stata colpita a morte sulla marciapiede della centralissima via Roma. E bisogna capire che collegamento ci fosse tra le due donne e l'uomo, lo stesso avvocato che difendeva la motta. Cerca di capire cosa sia realmente successo. L'uomo non era sposato e pare non avesse dato specifiche informazioni sulla sua vita privata. Il signor la motta è un soggetto che godeva della semilibertà. Per godere della semilibertà sicuramente la sua personalità, il suo percorso rieducativo, era stato vagliato attentamente da tutti perché la semilibertà, per averla, occorrono diverse relazioni. Quindi una scrupolosa osservazione del detenuto. Quindi io poi lo prendo in carico successivamente, ma non aveva procedimenti penali in corso. Quindi io lo assistevo soltanto perché formulava delle domande e quindi io mi facevo da tramite per quanto riguarda queste, soprattutto sia le licenze straordinarie, che comunque gli concedeva già la legge sull'emergenza Covid, che è la legge sui permessi, l'ordinamento penitenziario, sulle semplici licenze ordinarie. Ancora non ci sono certezze processuali. Dobbiamo tutti verificare e comprendere cosa sia realmente successo perché tutto è in fase di indagini. Però monta la polemica proprio su questa storia delle licenze. Sì, monta la polemica e comprendo anche che tutti vogliano fare chiarezza sia sui permessi che su tutto quello che sono gli istituti. Però sono delle cose che la legge permette e le ripeto, i magistrati quando concedono una misura di questa sono molto attenti e tutto passa attraverso diverse relazioni. Quindi io ritengo che anche nel caso del signor Lamotta sicuramente sono state svolte. Tra l'altro spesso avevamo modo di parlare di un suo percorso comunque rieducativo. Lui si era scondato tantissimi anni di carcere e quindi sicuramente in questi anni aveva cercato di rivedere. Da quanto tempo lo seguiva? Ma guardi, io lo conosco da almeno un due anni e mezzo. Lui già aveva ottenuto la semilibertà, aveva già ottenuto i primi permessi e quindi già era stato attenzionato. Il movente potrebbe essere passionale? Ma dalle prime ricostruzioni pare di sì. Però anche là io mi rimetto al silenzio istruttorio perché in questo momento tutti gli investigatori è giusto che facciano chiarezza su quello che è accaduto. Poi le ripeto, prima di tutto bisogna accertare tutto perché in questo momento non si sa nulla di preciso. Stanno ricostruendo sicuramente tutto, movimenti, telefonate, quindi di tutto. È giusto che ancora si faccia bene chiarezza su quello che è accaduto. Sequestro beni per circa 500 mila euro nei confronti degli eredi di Vincenzo Sucato nell'ambito di indagini finalizzata all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa. Cosa nostra, la misura è stata disposta dal Tribunale di Palermo. Vincenzo Sucato è deceduto nell'aprile del 2020 mentre era detenuto in attesa di primo giudizio e era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0 con l'accusa di essere stato il reggente della famiglia mafiosa di Misilmeri. Il provvedimento riguarda il 50% delle quote di una società con sede a Misilmeri, con attività aedile, poi un fabbricato sito a Misilmeri, tre appezzamenti di terreno e otto rapporti bancari. Lascia l'abito talare per amore di una parrocchiana ad un mese dall'ordinazione sacerdotale alla vigilia di San Valentino. Don Fabrizio Gentiluomo, viceparroco della Chiesa Madre di Mascari, ha comunicato ufficialmente al Vescovo la propria decisione. Lascia il sacerdozio per amore di una parrocchiana. Don Fabrizio Gentiluomo, 25 anni, era stato ordinato presbitero il 26 settembre dello scorso anno in cattedrale con l'imposizione delle mani dal Vescovo della Diocesi 10 Reale Antonino Raspanti e subito assegnato come vicario parrocchiale presso la chiesa di San Leonardo Abbate di Mascari. L'incontro con una parrocchiana di qualche anno e più piccola che svolgeva attività oratoriali ha messo in crisi la fede del giovane parrico e in subbuglio la comunità religiosa mascalese. La notizia è arrivata alle orecchie del Vescovo Raspanti che è convocato in curia di un Fabrizio il quale ha ammesso la liaison con la ventenne e per questa ragione è stato sospeso dalle funzioni e invitato a riflettere sulle proprie scelte. La decisione di lasciare l'abito talare e dedicarsi alla propria amata alla vigilia di San Valentino, festa degli innamorati, scelta che ha diviso i parrocchiani della chiesa madre di Mascari tra quanti si sono schierati a fianco dell'orma ex viceparoco e coloro che si sono dichiarati infastiditi. Pare che il sentimento tra i fidanzatini fosse noto a tutti in paese. Don Gentiluomo si era avvicinato alle chiese sin da giovanissimo, residente a Loreto, quartiere periferico di Eciliale e stato l'attento ministrante operativo nell'azione cattolica e faceva parte del gruppo missionario della parrocchia. A 19 anni è entrato in seminario tra studi e tirocini pastorali nella comunità di Eci Sant'Antonio, Eci Terezia e Cibonaccorsi. Un predestinato, secondo quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e religiose, sempre in prima linea nel sostegno dei più bisognosi. Quattro anni più tardi ha conseguito il grado accademico di baccelliere in teologia con il massimo dei voti. Due anni dopo consegue la licenza in teologia morale. Nello stesso anno, presso l'Istituto Sant'Omaso di Messina, conclude con merito gli studi alla scuola superiore ottenendo il diploma universitario di specializzazione in bioetica e sessologia. Un curriculum di spessore, bruciando tutte le tappe nel difficile cammino sacerdotale, sino all'ordinazione e all'assegnazione come vicario nella chiesa maggiore di Mascali. Un mese dopo aver indossato alla tona che ha avviato la propria missione pastorale, l'incontro con la parrocchiana che gli ha stravolto l'esistenza, decidendo di lasciare il sacerdotio e dedicarsi alla ragazza di cui si è innamorato perdutamente. Sulla vicenda nessun commento ufficiale da parte della diocesi né dei diretti interessati. Torniamo a parlare adesso del maltempo. Giornata intensa, quella di ieri per il presidente della regione Schifani, che ha effettuato una ricognizione nei luoghi che sono stati appunto martoriati dal maltempo della scorsa settimana. Il sistema della città metropolitana a Catania non ha funzionato. Abbiamo corso dei rischi, gravi criticità nell'organizzazione dell'attività di tutela. Sono le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani. A margine dell'incontro in prefettura con i sindaci dei comuni del capoluogo etneo, fortemente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che la scorsa settimana ha messo in ginocchio le popolazioni del versante orientale dell'isola. Utilizzeremo i fondi regionali e chiederemo anche di poter attingere a quelli extra-regionali. Ha ribadito Schifani questi eventi fanno emergere anche quanto sia necessario e non più rinviabile un ritorno alle province, che avevano il compito di vigilare sul territorio la cui presenza è fondamentale. Credo che i tempi siano ormai maturi affinché il governo se ne occupi ed è quello che faremo nelle prossime settimane. Mattinata impegnativa, quella di ieri per il presidente della regione. Prima un sorvolo insieme al dirigente generale della protezione civile Salvo Cocina sulle aree del Ragusano per constatare personalmente l'entità dei danni prodotti dall'ondata di maltempo e partecipare ad alcuni incontri istituzionali appositamente convocati, tra questi uno in municipio a Comiso. In questo territorio ingenti sono i danni prodotti dal ciclone nella zona di Acate del fiume Ipari. Vi assicuro che il nostro impegno non mancherà. Ha ribadito ancora una volta il governatore siciliano presente anche nel Siracusano e nel capologo etneo, così schifani al termine della ricognizione aerea. Oggi abbiamo voluto far sentire la nostra presenza ai territori danneggiati e dei sindaci che hanno manifestato le loro urgenze ed emergenze. Ne traremo conto. In settimana dichiareremo come è giunta lo stato di crisi per poi attivarci nei confronti della protezione civile nazionale e del governo per chiedere ristori attraverso una decreazione in stato di calamità naturale. Credo che ormai bisognerà prendere atto del fatto che è cambiato il clima, clima mutato che determina purtroppo una permanenza di questi fenomeni che ormai diventano ordinari. Quindi la Regione affronterà questo argomento in chiave strategica, lavorando per dotarsi di un grande piano conquernale, un piano Marshall, per visitare tutte le emergenze, ma non soltanto questo, a lavorare per la prevenzione dei dissesti. Dobbiamo lavorare per prevenire e non per incorrere. E in seguito all'eccezionale nevicata che si è abbattuta sul versanto orientale dell'isola, ANAS è anche oggi impegnata a fronteggiare l'emergenza, lui in realtà dalla giornata di sabato, sia sulla propria rete che sulle strade provinciali e regionali. In particolare il personale è impegnato con i mezzi spazzaneve e spargisale sulle strade di propria competenza interessate dalle nevicate, cioè le statali 116 Randazzo Capodorlando, 284 Occidentale Etnea, 288 di Aedone, 289 di Cesaro. Nella mattinata di oggi i due mezzi provenienti dalla Calabria, una fresa e una spazzaneve, insieme ai relativi operatori, sono a lavoro sul versante sud dell'Etna, lungo la strada provinciale 92, che da Nicolosi giunge a Rifugio Sapienza, vedete, in tal senso, le immagini. Voltiamo adesso pagina a Catania, con la celebrazione dell'ottava si è chiusa la lunga e grande festa dedicata a Sant'Agata, adesso l'appuntamento con la patrona catanese è fissato per il 17 agosto, giorno in cui si ricorderà il rientro delle reliquie della martire da Costantinopoli. L'appuntamento è per il prossimo 17 agosto, per una festa calda e appassionata, così come lo è stata quella che si è chiusa ieri, con l'ottava Sant'Agata del dopo pandemia, ha segnato i tempi della città di Catania, perlomeno da inizio febbraio sino alla giornata di ieri, giorno dell'ottava, che ancora una volta ha visto migliaia di fedeli salutare la santa patrona di Catania, prima in cattedrale, poi durante la breve processione del busto reliquiario in piazza Duomo, prima ancora in cattedrale la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che così come fatto durante le celebrazioni a Agatina, anche per l'ottava ha voluto incardinare la propria omelia su un doppio binario, da un lato la fede per Sant'Agata, di un popolo quello catanese devoto alla propria patrona, dall'altro lato la devozione che deve mutare il proprio volto con l'esempio di Agata, nella sociale, nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, nel mondo delle amicizie, insomma nel quotidiano. Se voi qui siete vestiti da devoti è perché siete dei battezzati e più volte vi viene ricordato che quell'abito bianco, cari uomini e donne che indossate il sacco, deve aderire alla vostra festa battesimale, perché non tradiate mai il vostro battesimo. E poi abbiamo vissuto le belle celebrazioni, l'offerta della cera, che non è l'offerta di un cero, ma di noi stessi. La celebrazione del mattino, così raccolta e devota, l'accompagnamento per le strade della città di Sant'Agata e ancora l'accompagnamento dopo il pontificale con la presenza delle autorità che ringrazio ancora perché è qui presente. E poi rientro e giorni di silenzio che spero siano stati per tutti quanti giorni nei quali abbiamo cominciato a fare un bilancio spirituale della festa di Sant'Agata. Ripeto, spirituale, perché la grande forza dell'umanità, la grande forza del cristiano è soprattutto in ciò che il Signore dice al cuore del credente. Dopo la processione in Piazza Duomo la Santa Patrona di Catania è stata riposta nella cameretta, riuscirà il 17 di agosto per la festa del rientro delle reliquie che ha origine nel 1126 quando le spoglie della martire catanese vennero riportate da Costantinopoli da due soldati Gilberto e Goselmo. C'è da scommettere che anche ad agosto Catania verrà invasa non solo da devoti, non solo da catanesi, non solo da curiosi ma anche da tanti tantissimi turisti soprattutto stranieri attratti da questa festa religiosa che affonda le origini nella storia e nella tradizione di una città legata a doppio vincolo con Agata. Ciascuno di noi pensi qual è il frutto della festa di Sant'Agata 2023? Come supererò la giustizia degli uomini per essere una persona che ama, che è retta davanti a Dio? Vedrete se noi uscendo da qui ci porteremo ciascuno di noi il suo bel proposito noi illumineremo Catania non di Ceri ma con la nostra testimonianza con la nostra luce. Il Carnevale di Acireale e il concerto di Anna Tatangio all'interno appunto del Carnevale hanno richiamato la folla delle grandi occasioni 15.000 biglietti venduti nel corso del fine settimana buone notizie anche per la cittadella del Carnevale Il secondo fine settimana del Carnevale di Acireale ha fatto registrare il pienone e un incasso complessivo di 100.000 euro 13.000 italiani staccati nella sola serata di domenica 3.000 il sabato mentre i biglietti di ingresso al circuito del primo fine settimana sono stati 7.000 Il concerto sul palco di Piazza Duomo di Anna Tatangio ha contribuito a richiamare il pubblico dei grandi eventi in città le manifestazioni collaterali da sempre contribuiscono ad Alicchiri e Gianricco Cartellone e Carnascialesco i carri alego i coperteschi e quelli infiorati rimangono il protagonista principale dell'evento popolare che nel corso del decennio ha saputo tagliare il suo ruolo da protagonista tra le manifestazioni e le riempie Il concerto della Tatangio ha riempito la piazza mentre i carri facevano rientro alla cittadella una serata quella di ieri all'insegna del doppio divertimento tra mascherone e musica con i fanzi assiepati sotto il palco ad accompagnare la nota attista nel suo repettorio di classici dove l'era indicato l'altro spettacolo dei carri in parata e nelle esibizioni lungo il circuito barocco della città lo sbigliettamento rappresenta un valido sostegno economico al capitale finanziato per la parte più consistente dal comune del generale e sempre meno dagli enti sovracomunali la presenza dei visitatori dei paganti non è legata solo alla figura dell'artista ma è legata soprattutto alla capacità che hanno i nostri artigiani alla cartapesta a dare uno spettacolo ieri erano 13.000 e questo ha permesso di avere un incasso significativo altri 3.000 sono stati il sabato che è sempre un giorno con minori afflussi e poi abbiamo avuto circa 7.000 presenze nel precedente fine settimana quindi siamo a circa 20.000 presenze che ci dà un incasso significativo e questo è importante perché il costo della manifestazione del carnevale non può basarsi soltanto sul comune e il 2023 potrebbe essere l'anno buono per i lavori di adeguamento della cittadella del carnevale attraverso un finanziamento di un migliore e mezzo di euro che consentirà inoltre di allestire un museo del carnevale la cittadella è sicuramente bisogno di interventi di migliore organizzazione noi abbiamo tutti gli stand occupati quando c'è il passaggio dai carri in cartapesta ai carri infiorati ci sono problemi di spazi e poi sicuramente anche una messa a posto dell'area i due centri commerciali catanesi le zagare e le ginestre sono stati messi in vendita dalla sezione fallimentare del tribunale etneo si tratta di due cespiti appartenenti al fallimento aligruppo spa società della grande distribuzione e liquidazione appartenuta a rete dei supermercati sebastiano scuto il termine per la presentazione di offerte non vincolanti per entrambi i cespiti è quello del 31 marzo prossimo il prezzo base di euro 29 milioni per entrambi appunto i cespiti le zagare e le ginestre Stefano Bonaccini in testa nelle preferenze degli iscritti al PD in Sicilia previste tra due settimane le primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario nazionale si sono concluse le operazioni di voto dei congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia al momento il candidato in testa è Stefano Bonaccini a votarlo finora sono stati 7500 siciliani i dati inerenti la nostra regione lo vedono dunque in vantaggio con il 42,2% Bonaccini è seguito da Elislein che ottiene un 36,9% di preferenze Gianni Cooper lo invece raggiunge il 15,3% Paola De Micheli il 5,6% risultati questi espressi attraverso il voto degli iscritti in vista delle primarie per la scelta del nuovo segretario Dem che si terranno il prossimo 26 febbraio a festeggiare per questo primo risultato il coordinamento regionale a sostegno di Bonaccini quello del voto dei circoli è un risultato importante per questa prima fase del congresso è stato un voto che comunque è stato partecipato certamente con un'affermazione molto importante anche in Sicilia di Stefano Bonaccini già il 61% dei facenti parte del partito lo indica come la figura è buona per il cambiamento del nostro partito del partito democratico tra coloro che non sono iscritti questo dato aumenta è una figura che può ancora di più essere credibile innanzitutto per il rinnovamento del partito attuando una reale sostituzione della classe dirigente attenendo a piene mani dagli amministratori locali e poi per battere le destre questo in un recentissimo sondaggio è il dato principale quindi un nuovo segretario per fare grande il centro-sinistra è governare e battere insieme il centro-destra entrambi i comitati a sostegno dei due candidati in testa Bonaccini e Schlein si dicono pronti ad affrontare le primarie del 26 febbraio quel giorno anche i non iscritti potranno recarsi ai gazebo appositamente allestiti per votare intanto anche in casa Schlein si registra soddisfazione e motivazione per il risultato conseguito sull'isola con le preferenze espresse dai tesserati eccezionale il dato della provincia di Catania conelli si legge in una nota che sfiora il 70% dei voti e nella città raggiunge il 76% ottimi i risultati a Palermo città Messina e nei grandi centri del Trapanese sulla mozione Schlein posso dire che a Palermo davvero si è creato un movimento che parte sicuramente da alcuni militanti del PD ma soprattutto dalla società civile dal mondo dell'associazionismo del terzo settore dai precari che hanno scelto di tesserarsi anche per la prima volta al Partito Democratico proprio per sostenere Ellie quindi il dato palermitano arrivare a pochi voti da Bonaccini prima di Cooper ovviamente è un dato importante per il nostro movimento a Catania siamo ad oltre il 70% nella Sicilia orientale Ellie ha avuto un ottimo risultato ma soprattutto in Sicilia non ce l'aspettavamo complessivamente quindi è stato un risultato davvero straordinario Immigrazione se non fosse cessata la materia del contendere per l'avvenuto sbarco il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri lo afferma la sentenza del Tribunale Civile di Catania sul ricorso contro il decreto immigrazione del governo presentato da 35 profughi salvati dalla Humanity One tra gli sbarcati nel porto di Catania del 6 novembre scorso in un passaggio della sentenza il presidente Marisa Cagnino scrive che il decreto è illegittimo perché consente il salvataggio solo a chi sta in precarie condizioni di salute contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali sul soccorso in mare turismo adesso alla vetrina mondiale della BIT anche le bellezze siciliane su iniziativa della regione vediamo 64 postazioni di lavoro a disposizione occupate da 16 tour operator 10 agenzie di viaggio e 22 strutture ricettive sono solo alcuni dei numeri relativi alla BIT 2023 alla quale anche quest'anno partecipa la regione siciliana reduce da una stagione che ha registrato importanti risultati in termini di arrivi turistici nazionali ed internazionali inaugurazione ieri l'evento sino a domani una vetrina importantissima a prendere parte al taglio del nastro il governatore siciliano Renato Schifani e l'assessore regionale al turismo Elvira Amata un momento anche per illustrare i risultati raggiunti nel 2022 nel settore ma anche i nuovi obiettivi che si pone la regione a volte incentivare la destagionalizzazione e motivare l'attenzione da parte di nuovi target alla ricerca di stimoli alternativi al solo mare nel 2022 grande peso è stato dato alla comunicazione focalizzata sul consolidamento del brand Sicilia sulla promozione dell'offerta turistica siciliana nel suo complesso inclusi i grandi eventi direttamente promossi e sul programma Incentivazioni Sì Sicili i contenuti orientati a dare evidenza delle peculiarità di una terra quale destinazione turistica ideale per ogni segmento di mercato hanno puntato sullo straordinario patrimonio artistico culturale ma anche naturalistico e gastronomico presentati attraverso sei testimoni all'autentici non siciliani che hanno eletto l'isola a loro patria di aduzione E adesso il calcio Serie D Vittoria e rimonta del Catania sulla Mariglianese che consente ai rossazzurri di mantenere invariati 14 punti di vantaggio sulla immediata Insequitrice il Locri proprio quest'ultimo ospiterà domenica prossima la formazione allenata da Ferraro Un testacoda dall'esito per nulla scontato quello che ha visto di fronte Catania e Mariglianese con i rossazzurri che vincono soffrendo e rimontando nel secondo tempo la Mariglianese chiude in vantaggio la prima frazione di gioco grazie alla perla di Maidana che pesca il jolly dopo pochi minuti dall'inizio con un gran tiro d'esterno-sinistro dal limite dell'aria che beffa Betters sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti campani vanno vicinissimi al raddoppio quando Bacio Terracino direttamente su calcio di punizione manda il pallone a sbattere contro la traversa a portiere battuto i rossazzurri che in precedenza avevano fallito una buona opportunità con De Respines non si demoralizzano e nelle finali di primo tempo potrebbero già guantare il pari lo stesso De Respines si viene falciato in piena area ma dagli 11 metri Lodi sbaglia il suo secondo rigore stagionale facendosi respingere la conclusione da K nella ripresa determinanti cambi operati da Ferraro che manda subito in campo Russotto e Palermo oltre alla portiere Groz per esigenze di regolamento e proprio Russotto vola via sulla sinistra tira forte verso la porta avversaria K non trattiene e Chiarella in scivolata spedisce in rete il pallone dell'1-1 entrano anche Forchignone e Sarno il Catani è un'altra squadra manovra abilmente e raggiunge il vantaggio proprio quando Sarno lancia in verticale De Luca abile a saltare il portiere avversario che lo stende secondo rigore di giornata sul rischietto stavolta si presenta Sarno che spiazza K regalando il 2-1 ai Rossazzurri nel finale la formazione allenata da Ferraro potrebbe anche triplicare ma Forchignone sbaglia lo scavetto davanti al portiere avversario finisce in gloria per i Rossazzurri seguiti in tribuna dalla presidente Ross Pelligre dal suo staff domenica prossima trasferta praticamente decisiva sul campo della seconda in classifica che è il Locri che insegue sempre a 14 punti di distanza Papa Francesco in dialogo con uno psicologo parleremo del libro La paura come dono scritto da Salvo Ne psicologo psicoterapeuta e mediatore familiare quest'oggi all'intervista ospite in studio l'autore e collegato in diretta da Roma il vaticanista del TG1 Ignazio Ingrao nel volume il pontefice racconta pensieri timori sensazioni di questi quasi dieci anni di pontificato a partire dall'elezione al conclave poi riflette su temi come immigrazione omosessualità ma anche il carrierismo la formazione nei seminari e la prevenzione degli abusi non è intervistato da Filippo Romeo parla dei suoi ormai frequenti incontri con il Papa e di come nacque l'idea di questo libro che svela nuove sfaccettature dell'umanità di Francesco appuntamento dunque questa sera alle 21 anche su Facebook e poi in replica domani alle 13 alle 23 e 30 con questo appuntamento noi ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria linea alla regia oggi Paolo Coco e Manuela Musumeci ci rivedremo subito dopo rieccoci in studio dopo la pubblicità non ci sono altre notizie chiudiamo ora TG con il meteo queste le previsioni queste le previsioni del 14 febbraio San Valentino in Sicilia cielo sereno poco nuvoloso ovunque in regime di brezza i mari quasi calmi poco mossi le temperature adesso qualche grado in più lo segneremo nelle temperature massime rispetto a quanto registrato oggi principalmente nella parte costiera della nostra regione le temperature minime invece rimarranno stazionarie con il meteo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento in diretta con Ray TV questa sera alle ore 19 e 45 con la seconda edizione di ora TG grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti grazie per la vostra attenzione